Ciao a tutti, sono Alexander Dario e bentrovati su Warframe con un nuovo video dedicato ancora una volta ai nuovi giocatori perché voglio andare a concludere la quest introduttiva al gioco, ovvero il premio di Vore. La volta scorsa ci eravamo salutati che dovevamo andare a recuperare le risorse che ci aveva consigliato Darvo per poter craftare la Scaris Negator e toglierci questa trappola che ci ha messo Vore sul braccio. Quindi non perdiamo tempo ulteriormente e andiamo subito in missione ragazzi. Allora in questa missione avremo a che fare con la fazione dei Corpus di cui fa parte anche Darvo e quindi faremo la conoscenza con dei nuovi nemici. Bene, da quello che posso vedere questa missione non si sviluppa come le canoniche missioni che troviamo sulla mappa stellare di Warframe. Per intenderci non è una missione di sterminio, di sabotaggio, di salvataggio, ma ha una sua meccanica specifica ovvero quello di andare a recuperare delle resource cache. E qui abbiamo proprio la prima. In realtà da quello che posso vedere queste resource cache, come potete vedere, sono simili agli armadietti che andiamo ad aprire. Cambia la luce e la colorazione della cassa, che in questo caso è bianco, emette anche un suono, sentite? Ecco, queste casse particolari... Ops, scusami Lotus. Ok, ho lasciato finire il discorso di Darvo. Comunque, vi stavo dicendo che queste resource cache le incontrerete in più occasioni nel corso della vostra avventura su Warframe perché in diverse missioni di sabotaggio o di sterminio ne potreste trovare tre nascoste che una volta trovate vi danno delle ricompense anche piuttosto interessanti. Quindi sono delle ricompense bonus nel corso appunto di queste missioni. Allora ragazzi, qua sopra dovrebbe esserci la seconda cache, quindi andiamo a recuperarla. Sentite che mano a mano che mi avvicino c'è questo suono particolare. Allora, intanto recuperiamo queste risorse e qui abbiamo la nostra seconda cache. Già che ci sono vi faccio vedere anche come si hackerano le console dei corpus. Lotus. Mi sa che presto avremo una visita di War. Eccolo qua, infatti. War continua a minacciarci. Mi sembra scontato, non ve l'ho detto nei video precedenti, ma questa effettiva minaccia della Scaris in realtà è proprio soltanto di trama. Non è che se non interveniamo rischiamo davvero di fare una brutta fine a causa di War. Possiamo tranquillamente prenderci il nostro tempo, ragazzi. Nelle basi corpus, ragazzi, troverete spesso delle telecamere di sicurezza come questa che attivano dei raggi laser sulle porte. Se ci passate attraverso queste vi buttano a terra e vi tolgono gli scudi, ma basta distruggere le telecamere e questo fastidio viene cancellato. Qui intanto ecco la terza cache. Rompiamo un po' di queste casse per recuperare anche un po' di risorse, che schifo non fanno. Già che ci sono vi segnalo una cosa importante. Sparse per le mappe troverete delle piante. Scansionatele, ragazzi, perché questo è l'unico modo per recuperare queste piante che vi serviranno poi per dei crafting più avanti. Intanto qui le comunicazioni con Lotus sono sempre più incomprensibili, purtroppo. Vi faccio vedere cosa accade attraversando i laser. Bene, ragazzi, comunque abbiamo portato a termine i nostri obiettivi per questa missione, quindi possiamo raggiungere l'estrazione e tornare sulla nostra astronave. Ok. Operator, sei tutto bene? This part of your journey is over, Tenno. I admire you for your struggle. But now... I am part of you. Lotus, do something. Help the Operator. Operator, do not abandon me again. Build the countermeasure. Ok, ragazzi, se Dio vuole, Vor e Ordis hanno finito di parlare, quindi andiamo a... Ok, come non detto. For my love, my queens. They will forgive my insubordination when I deliver you to them. Our love will be reborn as we feed on your divine blood. Our children will flourish without disease. And I will die at last, at peace. Father, grandfather, what do you think you're doing? Finally, ora che Vor ha concluso il suo sproloquio, posso parlarvi della fucina. Prendete confidenza con questa interfaccia perché ci avrete a che fare praticamente durante tutta la vostra avventura. Allora, innanzitutto qua sopra ci sono delle categorie con cui voi potete filtrare i vari oggetti che potete andare a craftare. Avendo adesso pochi oggetti, i filtri sono pochi ma aumenteranno, vi assicuro che avrete un sacco di roba nella vostra fucina. Qui c'è anche un modo per ordinare i vari tipi di crafting a seconda che siano pronti per il crafting oppure per tipologia o in ordine alfabetico. Quello che interessa a noi per il momento è la Scaris Negator, anche perché gli altri oggetti ancora non li possiamo craftare. Come potete vedere qui viene data una visualizzazione di quelle che sono le risorse necessarie e qua sotto ci viene comunicato che abbiamo ancora uno schema disponibile, anche se in realtà questo oggetto serve proprio solo per questa quest. Ci viene dato un'indicazione del tempo necessario per il crafting e il costo in crediti, perché ogni oggetto che andiamo a craftare ha un suo costo specifico in crediti oltre che in risorse. Come vi stavo dicendo la Scaris Negator è un oggetto particolare specifico proprio solo di questa quest. C'è anche una particolarità, perché anche se viene scritto che c'è uno schema solo rimasto, in realtà quando andremo a craftarlo questo schema rimarrà all'interno della fucina. Non si tratta di un bug, ma è una volontà specifica di Digital Stream di lasciarlo all'interno della fucina, forse come promemoria di quelle che sono state le parti iniziali della nostra avventura. Cliccando su componenti potete andare a visualizzare tutte le risorse che avete a vostra disposizione nel vostro inventario, invece cliccando su arcane vi si apre l'interfaccia per le arcane, che però sono un argomento un po' più avanzato, quindi non andremo ad approfondirlo in questa occasione ragazzi. Detto questo andiamo a craftare il nostro Ascaris Negator, Così vi parlo di un'altra piccola meccanica legata alla fucina, perché Warframe richiede tempo per praticamente tutti i crafting. Se volete potete spendere i vostri platini per accelerare questi crafting. Ora, la Ascaris Negator ha un costo in platini di zero, quindi chiaramente non costando niente mi sembra stupido non approfittarne e accelerare questo crafting, anche se durava solo 30 secondi. Ci saranno dei crafting molto più lunghi, ad esempio per craftare un Warframe servono 3 giorni, quindi posso capire che alcuni di voi saranno tentati di accelerare questi crafting per avere prima gli oggetti desiderati. Bene, ora che abbiamo craftato la Ascaris Negator possiamo finalmente rimuovere questa trappola dal nostro braccio, dal nostro Warframe, anche se credo questo non sarà la fine dei nostri problemi ragazzi. No, per fortuna non ci hai perso, Lotus, però resta ancora una cosa da fare. Oh, è questo? Ok, stavo giusto dicendo che dovremmo andare a sconfiggere Warframe una volta per tutte, e adesso abbiamo un motivo in più per farlo, è anche piuttosto in fretta ragazzi, quindi andiamo subito in missione. Bene ragazzi, eccoci in missione. In questa prima schermata, come potete vedere, ci viene detto il tipo di fazione con cui avremo a che fare e il tipo di incarico, che anche in questo caso è quest, quindi è specifico per questa missione. Non credo ci sarà niente di particolare nel corso di questa missione, quindi la farò abbastanza rapidamente, vi lascerò giusto i dialoghi del caso di Vor e dei nostri amici ragazzi. Ecco, parlando del diavolo... Bene ragazzi, ho quasi raggiunto la postazione dove recuperare le nostre coordinate di navigazione. Intanto qua ci sono un po' di nemici che vogliono morire male, accontentiamoli ragazzi, e andiamo a recuperare le nostre coordinate per trovare Vor. E qui ragazzi ci viene data la scelta se andare ad aiutare i coloni che rischiano appunto di essere intercettati dai Grineer, oppure se scappare come codardi all'estrazione. Naturalmente, manco a dirlo, io scelgo di andare ad aiutare i coloni. La Scaris comporta una riduzione della capacità dei nostri scudi, ma non dovrebbe essere un problema troppo grande, perché comunque i nemici di queste missioni sono di livello molto basso, e quindi anche con gli scudi ridotti non dovrebbero costituire un problema per noi. Se vogliamo andare all'estrazione dobbiamo seguire l'icona verde che ci viene indicata sia sulla minimappa che a schermo, oppure per gli altri obiettivi bisogna seguire l'indicazione, l'icona gialla. E quindi ragazzi questa fase della missione si è trasformata in tutto e per tutto in una missione di sabotaggio, in cui dobbiamo distruggere i reattori dell'astronave. E per farlo dobbiamo distruggere questi iniettori di refrigerante, così che non avendo più refrigerante questi si surriscaldino ed esplodano. Fatemi solo eliminare la minaccia che costituisce questo rampant, ok, e poi completiamo l'opera. In questo modo adesso dovremmo, esatto, vedere una piccola esplosione e adesso lungo tutta la mappa troveremo delle zone infuocate. Naturalmente passandoci sopra prenderemo fuoco e quindi subiremo danno da fuoco per un certo periodo di tempo, ecco vedete, e quindi sarebbe il caso di evitare di passarci sopra. Ecco adesso magari rischio anche di morire per avervi fatto questa piccola dimostrazione, mannaggia a me, andiamo di corsa all'estrazione perché ormai abbiamo salvato i coloni e quindi possiamo finalmente abbandonare la nave e tornare ad occuparci di Vor. Allora ragazzi, prima di procedere con l'ultima missione, credo, dove affronteremo Vor, visto che il mio volt è salito al grado 4, possiamo finalmente installare delle nuove mod, perché adesso la capacità appunto è di 4 e quindi mi posso permettere un piccolo potenziamento. Naturalmente al momento posso capire che se siete alle prime armi tutto questo possa sembrarvi piuttosto caotico e confuso vista la quantità di mod che ci sono e la quantità di informazioni che il gioco continua a buttarvi in faccia in queste schermate. Non vi preoccupate, col tempo imparerete a prenderci la mano e naturalmente se avete dei dubbi, chiedete pure anche qua sotto nei commenti se posso, sono più che disponibile per aiutarvi. Ma adesso, prima di tutto, occupiamoci di Vor ragazzi. Adesso che abbiamo installato le coordinate di navigazione dovrebbe essersi sbloccato sulla mappa il nuovo nodo su cui dobbiamo andare per affrontare Vor. Eccolo qua, infatti. Allora ragazzi, questa è una missione che si configura come un assassinio, ovvero uno scontro in realtà con un boss. Ne troverete diversi sparsi per la mappa stellare, almeno uno per ogni pianeta che affronterete. Ognuno di questi scontri sarà particolare per qualche motivo. Nel corso degli anni alcuni sono anche stati reworkati, sono stati migliorati. Da poco, ad esempio, è stato rivisto lo scontro con il Jakal. Se siete curiosi, vi rimando al video che ho fatto in proposito. In realtà, ragazzi, potremmo tranquillamente trascurare tutti questi nemici e andare dritti e filati verso la stanza dove ci attende Vor. Ma visto che non voglio rischiare di farvi perdere qualche dialogo, me la sto prendendo con un po' di calma. Naturalmente non dovessero essercene e se non ci sono particolarità nel corso della missione, taglierò in fase di editing anche perché ho paura che questo video rischi di diventare piuttosto lungo, ragazzi. Bene, eccoci arrivati. Adesso dovrebbe partire una cutscene con Vor e poi finalmente potremmo affrontarlo. Lo scontro con Vor credo sia uguale a quello che si affronterà durante le missioni della mappa stellare e quindi consiste semplicemente nell'ucciderlo. Durante lo scontro ci saranno dei nemici comuni che potremmo tranquillamente trascurare per concentrarci su di lui. Come vedete ha due barre, quella gialla e quella della sua vita, mentre quella blu indica i suoi scudi. E una volta che avremo iniziato a fargli del danno, lui genererà una sfera di invulnerabilità e si teletrasporterà da un'altra parte. Dovremmo naturalmente ripetere questa sequenza fin tanto che non riusciremo a ucciderlo e quindi a togliergli completamente la barra della salute. Non si tratta di uno scontro così pericoloso. Fate solo attenzione che quando si rifugia nella sua sfera di invulnerabilità evoca dei nemici comuni che quindi potrebbero danneggiarvi, ragazzi. Bene ragazzi, quindi al terzo tentativo Vor è caduto e ci ha liberato dall'influenza dell'Ascaris. Quindi adesso possiamo tranquillamente andare all'estrazione e questo concluderà la quest introduttiva, il premio di Vor. You've done it, Tenno. Vor's Ascaris is gone. You are free now. But your work has just begun. The Origin system is in chaos and it needs you, Tenno. Vor was just a part of the Grineer machine and we have seen that the Corpus have begun amassing weapons of their own. It is a dangerous time. Ordis will gladly assist the operator in cutting a bloody pop in whatever mission they choose. We will be at your side. There will be others too. It is time for the Tenno to return. So, what mission will you do next? Bene ragazzi, quindi adesso che abbiamo completato il premio di Vor sono arrivati questi messaggi che quindi ci danno il benvenuto nel mondo di gioco. vedo qui che si parla di Ember e di una decorazione e qui ci danno addirittura un peluche. Queste sono tutte cose nuove che è la prima volta sinceramente che vedo e quindi sono anch'io abbastanza curioso di vedere in che cosa consistono. Ma me le leggerò per conto mio. Intanto qui si è aperta la schermata di chiusura della quest, il premio di Vor. Ogni volta che completerete una quest si aprirà una schermata simile dove appunto ci sarà il riepilogo della conclusione della quest e la ricompensa che avrete ottenuto. In questo caso non ci sono ricompense specifiche di questa quest però comunque ragazzi siamo all'inizio. Questo di fatto era il tutorial. E adesso che l'abbiamo completato possiamo finalmente iniziare l'esplorazione della mappa stellare. Ci sono come vedete ancora un sacco di nodi, c'è anche Cetus che è addirittura già accessibile e questo non me l'aspettavo sinceramente. Cetus è la prima cittadina che dà accesso alle aree open world delle piene di Eidolon. Non è alla vostra portata se siete in questa fase dell'avventura. Vi conviene prima di tutto affrontare gli altri nodi del pianeta Terra e poi fare il raccordo di Venere che quindi vi sbloccherà l'accesso al pianeta Venere. Oltre a darvi un bel po' di ricompense ghiotte per poterlo affrontare però come potete vedere ci sono dei prerequisiti che in questo caso non sono molto complicati da ottenere quindi si faranno abbastanza facilmente affrontando le missioni qua sulla Terra. Bene e questo è quanto per questo video ragazzi. Chiudo giusto segnalandovi il Mastery Rank che è il livello del player ovvero il nostro livello come giocatori di Warframe che cresce aumentando le nostre conoscenze nel mondo di gioco ovvero andando a sbloccare i vari nodi della mappa andando a maxare il livello delle nostre armi, dei nostri Warframe eccetera eccetera. Vi rimando ai video che ho fatto in proposito però volevo segnalarvelo perché se avete fatto tutto fin qua dovreste aver ottenuto abbastanza affinità ovvero abbastanza esperienza per sbloccare la prima sfida per raggiungere quindi il livello 1 del grado maestria perché per poter vantare l'aumento di livello bisogna prima di tutto affrontare delle sfide per dimostrare di essere degni di aver raggiunto quel traguardo. Qui sul vostro profilo potete vedere le informazioni appunto sul vostro grado al momento siamo grado 0 ma possiamo anche vedere tra l'altro tutti i vari equipaggiamenti, vari Warframe ognuno con delle statistiche interessanti relative al grado che abbiamo raggiunto al tempo per cui l'abbiamo utilizzato, al numero di nemici uccisi ad esempio poi oltre a tutto questo possiamo anche filtrare quindi per categoria tutte queste informazioni ma poi c'è la tab statistiche con una serie infinita di numeri e di curiosità c'è la tab poi associazioni ma per questa ne parleremo sicuramente più avanti e poi c'è la tab sfide ovvero gli achievement semplicemente bene quindi con questo piccolo accenno al Mastery Rank alla fine ho fatto che farvi vedere anche il profilo del giocatore in effetti non ne avevamo ancora parlato ragazzi naturalmente se avete domande o dubbi se siete all'inizio della vostra avventura chiedete pure nelle chat in game o qui sotto nei commenti cercherò sempre di rispondervi e detto questo ragazzi io vi saluto alla prossima ciao ciao